Brutte, brutte notizie per i contribuenti non in regola con le imposte dovute al comune o alla regione o con le multe stradali. Per loro infatti non varrà la nuova rottamazione delle cartelle fino a 1000 euro affidate all'esattore fino al 2015 che come sapete è prevista dalla legge di bilancio 2023 per le imposte erariali. Difatti per evitare il collasso economico dei comuni, che ne subirebbero altrimenti le cadute fino a 350 milioni di euro nei relativi bilanci, sono state previste delle rilevanti modifiche alla normativa che è in corso di approvazione da parte delle Camere. In particolare per l'Imu e gli altri tributi locali come l'imposta sulla spazzatura la cancellazione riguarderà solo interessi di more e sanzioni ma l'imposta resterà invece da pagare per intero. Quindi nessuno stralcio delle cartelle. Nel caso poi delle multe la tagliola si fermerà solo agli interessi, interessi che come noto sono pari al 10% e scattano ogni sei mesi. Sono questi gli emendamenti alla legge di bilancio che uscirà dalle modifiche della Camera. Questa è la legge.